E' ormai divenuto un appuntamento consueto, immancabile alla vigilia delle feste più importanti della tradizione religiosa, della tradizione cattolica, ovvero quelle del Natale e della Pasqua. L'appuntamento è con i Vescovi del territorio, con il loro saluto, gli auguri per questo Natale 2016, un Natale che si caratterizza di tanti temi, purtroppo anche di tante problematiche, con uno sguardo a un 2017 che si spera dalle questioni globali, che però investono anche la nostra quotidianità, vedi quanto accaduto nelle ultime ore a Berlino, alle questioni più squisitamente locali, possa essere un anno di ripresa e di ripartenza in tutti i sensi, dopo un 2016, che in particolare per l'Umbria ha segnato dei momenti davvero difficili e drammatici. Allora andiamo a sentire le parole dei Vescovi Domenico Sorrentino, da Gualdo Tadino, il Vescovo della Radio Ocisi di Gualdo Tadino Assisi, di Mario Ceccobelli, Vescovo di Gubbio, e di Domenico Cancian, Vescovo di Città di Castello, con le cui parole approfittiamo anche noi per farvi i migliori auguri di Buon Natale con TRG Plus, che tornerà il prossimo 27 dicembre, martedì sera, sempre alle 20.50. Cari amici, Buon Natale! Sono ancora una volta nelle vostre case da questo Vescovado che vide otto secoli fa la presenza di Francesco. Francesco che proprio per il Natale aveva una devozione speciale, guardava quel bambinello e il suo cuore si commuoveva, perché il Natale è la festa di Dio con noi. È un Dio che non se ne resta lassù indifferente, è un Dio che entra dentro la nostra vita, dentro le nostre case, dentro i nostri problemi. E quest'anno abbiamo particolarmente bisogno che egli entri, perché abbiamo avuto qualche problema in questi mesi, anche nella nostra Umbria. Abbiamo avuto a Norcia tante rovine, tante sofferenze, ancora vogliamo essere vicini a questi nostri fratelli. E dunque abbiamo bisogno che realmente il Signore ci faccia sentire la Sua presenza. E dobbiamo risvegliare in noi la nostra fede, la fede che ci hanno lasciato le generazioni precedenti, che ci fa vedere in quel bambinello il Dio della nostra speranza e il Dio del nostro futuro. Poi qui ad Assisi abbiamo certamente ragioni in più per gioire e aprire il cuore. Proprio nel momento in cui vi parlo, in questo Natale, abbiamo una iniziativa speciale. Istituiamo quest'anno quello che abbiamo chiamato il santuario della sfogliazione, perché il luogo da cui vi parlo è esattamente il luogo dove otto secoli fa Francesco d'Assisi si spogliò di tutto, delle sue vesti, del suo denaro, della potenza terrena, dei suoi disegni e desideri di gloria. E perché si spogliò? Per essere simile a Gesù, un uomo tutto di Dio, ma anche tutto dei fratelli. E cominciò una vita bella, quella che gli fece poi sentire fratello, il sole, sorella, la luna, ma soprattutto gli fece sentire fratelli e sorelle, coloro che sono più maltrattati dalla vita, i più immarginati, i più sofferenti. E dunque ci aiuta Francesco a sentire il mistero del Natale come mistero di solidarietà, come mistero di amore che ci invita anche ad aprire le braccia, le case e il cuore. E dunque i miei auguri che davvero possiamo sentire questo Natale come un Natale di pace. E poi c'è un anno davanti, un nuovo anno, e davanti al nuovo anno si sogna, si sogna naturalmente che il tutto vada meglio, che la disoccupazione diminuisca, che l'economia riprenda, che ci sia più pace nel mondo. Possiamo farci questi auguri e dobbiamo farceli con la speranza cristiana, che non è soltanto la speranza augurale, è la certezza che con Dio possiamo farcela. Dunque, coraggio, mettiamocela tutta. Ognuno di noi trovi nel suo cuore le ragioni per impegnarsi di più, sentendo che quello che fa la differenza è sempre e solo l'amore. Apriamo il cuore all'amore, non ci chiudiamo, non siamo indifferenti, non mettiamoci dentro il nostro castello, gettiamo ponti, come dice Papa Francesco, ponti e non muri. Abbiamo bisogno di un mondo accogliente, ognuno di noi può cominciare nel suo piccolo a costruire un mondo di pace. Tanti auguri a tutti, buon Natale e buon anno. È un appuntamento annuale al quale non vogliamo assolutamente mancare e non vogliamo far mancare degli auguri per il Natale, il Vescovo di Città di Castello Domenico Cancian. Siamo venuti qui nel Vescovado Tifernate. Eccellenza, è un periodo veramente molto delicato questo, bisogna arrivare al cuore delle famiglie, penso, e le sue parole sono attese da tutti quanti. Anzitutto un saluto accompagnato appunto dall'augurio del Santo Natale e di un 2017 che possa ridare fiducia e speranza. L'augurio è proprio fiducia e speranza perché le situazioni problematiche sono sotto gli occhi e la tentazione più brutta è quella di andare alla rassegnazione, allo scoraggiamento, a lasciarci cadere le braccia, come si dice. Mentre invece è possibile reagire proprio per il fatto storico, documentato, che il buon Dio non sta lassù, chissà dove, a fare chissà cosa, ma è venuto in mezzo a noi, si è sporcato veramente le mani. Due mila anni fa ha preso la nostra storia e non dall'esterno, ma facendosi lui stesso uomo come noi, in tutto simile a noi, anzi, ma assumendo una condizione umana la più povere, la più umile. E quello che ci sorprende, ed ecco qui lo stupore del Natale, anche con la gioia, i regali, eccetera, che rischiano però di rimanere all'esterno, dovrebbero invece portarci a questo fatto, perché se tutto si riducesse al clima, festaiolo, ai regali, eccetera, potrebbe essere davvero ancora un momento in cui noi ci distraiamo e basta. Invece qui c'è un fatto grosso, che si è calato nella storia in maniera estremamente umile, semplice, e tutti gli uomini hanno bisogno di lui e nessuno se n'è accorto che lui è arrivato. E lui continua a esserci e ci dice coraggio, io ci sono, ti aiuto, ti do una mano e c'è scritto nulla è impossibile a Dio. Ecco, quindi il mio invito è un invito alla fiducia, alla speranza fondata nella certezza che Dio è con noi. Ecco, è un periodo storico, in quelle che stiamo vivendo del tutto particolare, dove la Chiesa, è fondamentale che faccia i suoi interventi, che intervenga e il Santo Padre non si lascia scappare assolutamente l'occasione proprio per dare fiducia. Sì, proprio in questa situazione in cui ad Aleppo sta succedendo di tutto e di più, in cui il problema dei migranti continua a inquietarci, in cui il terremoto ha distrutto tanti paesi, anche della nostra regione Umbra, in cui il disagio sociale sta montando, in cui le relazioni non sono così facili, nemmeno quelle familiari, ahimè, con ripercussioni sui figli, sulle nuove generazioni, eccetera, eccetera. Insomma, i problemi, come dicevo, sono sotto gli occhi. E però proprio qui il Vangelo, Papa Francesco, la Chiesa vuole ripetere proprio questa parola di fiducia, di speranza, ma ripeto, non vaga, non formale, ma che proprio scuota il cuore, vada il cuore dell'uomo. Ecco, io vorrei dire una frase che in questi giorni ci siamo detti anche noi vescovi, che siamo andati lì a visitare le zone del terremoto, mentre si diceva, ma che bello era questo paesino adesso distrutto. E uno degli abitanti di quel paesino ebbe a dire, ma questo paesino è bello, non era bello, è bello, io lo vedo già rifatto. Mi sembra questo proprio il senso del Natale, cioè di intravedere sotto le macerie nostre di qualsiasi tipo, intravedere qualcosa di più bello ancora, proprio perché il Signore non è venuto a condannare, a giudicare, a dire ve lo meritate, arrangiatevi, ma io sono con voi e sono venuto apposta per darvi una mano. E certo, la mano del Signore però anche noi dobbiamo fare la nostra parte, perché il Natale sia completo, ecco, il Signore ha a che fare con uomini libri e responsabili, dunque dipende anche da noi. Allora, con il Vescovo di Gubbio andiamo a salutarci, salutiamo questo 2016, accogliamo queste festività natalizie e forse ecco, lo salutiamo davvero questo Vescovo, perché quando è che entra effettivamente in attivo la pensione? perché è un Vescovo scadente, quindi non sono più commestibile dopo una certa data, non mi consolo perché una volta scaduto non sarò più scadente. Eccellenza, ma anzi, sarà un Vescovo di merito appunto. Allora, eccellenza, ci appropinquiamo a vivere queste festività natalizie, a salutare questo 2016. Allora, innanzitutto le chiedo, qual è il messaggio che lancia agli Eugubini, alla sua chiesa Eugubina, sapendo che sarà probabilmente l'ultimo messaggio ufficiale e istituzionale, poi ovviamente resterà il nostro Vescovo di merito, immaginiamo, speriamo che magari resterà anche a Gubbio, se non altro sarà molto frequentemente in città. Che cosa si sente di comunicare per l'ultima volta, proprio nella veste ufficiale che ricopre alla sua chiesa Eugubina, e non soltanto? Tanto ti dico che sono emozionato. Non è una battuta, ma è vero, perché quando ci penso, sono passati dodici anni intensi, sono arrivato con grande timore e trepidazione, l'ho vissuti, direi, come li vivono tutti, immaginano, tra gioie, dolori, delusioni, momenti di gioia, di gloria, è la vita, è la vita. Però c'è una traccia che è la luce della fede, che mi ha guidato in questo servizio, che per me è stato un servizio, mettere la mia vita al servizio di questa chiesa. Per guidarla dove? Sulle vie del regno. Io ho cercato di ricordare a questa chiesa che il regno di Dio è venuto sulla terra, che è il regno dell'amore, a cui, per il quale, per questo regno, hanno lavorato tutti i vescovi di questa chiesa. Io, 59esimo successore di Sant'Ubaldo, ma come lui, ho cercato di predicare questo Gesù di Nazareth che è venuto a portare il regno di Dio, che è il regno dell'amore, che è il regno della pace, che è il regno della solidarietà tra gli uomini, per farli vivere meglio e per annunciargli che c'è un regno, una pienezza del regno che ci attende, quindi una gloria che Dio vuole condividere con gli uomini. E questo è quello che io avrei dovuto dire e io ho cercato di dire. Non lo so se è stato accolto. Spero di sì, almeno. Spero di sì, ecco. Allora, questo è quello che lei ha cercato di dare e di comunicare agli ogubini. Che cosa si porta via, come ricordo, da questa città e da questo popolo? Tante cose belle. Perché quelle meno belle le ho dimenticate già. perché conviene, no? Conviene. Poi sì, invece tante cose belle, per esempio l'amore e l'attaccamento alle tradizioni. Questo popolo è veramente attaccato alle proprie tradizioni che sono tutte religiose. le feste dei santi, la festa di Sant'Ubaldo, le tre feste di Sant'Ubaldo, perché c'è la canonizzazione, la corsa e la traslazione. Tre feste che scandiscono l'anno civile di Gubbio. E poi che mi porto via? Tante belle esperienze, tanta gente buona, tanti gesti di generosità, tanti giovani in gamba. Io ho partecipato quest'anno alla GMG a Cracovia, ho trovato dei giovani splendidi. Come si fa a parlare male dei giovani? Perché non si conoscono, perché si valutano tutti insieme, globalmente, quindi quando si vede qualcosa che fanno male, perché qualcosa la sbagliano anche loro, e si mettono tutti nel calderone. No, a me ci sono tanti giovani bravi e io devo dire che ne ho conosciuti proprio bravi, di tutte le specie, cioè quelli intelligenti, quello meno intelligenti, ma quelli più attivi, più propositivi. Sono tante risorse. La gioventù di Gubbio a me pare che sia migliore di quella di altri luoghi dove ho vissuto. È anche difficile fare confronti, perché il mondo è veloce, oggi cambia rapidamente, per cui quello che vedi oggi certamente non è paragonabile con quello che abbiamo visto dieci anni fa. Poi l'hai visto anche subentrare tanti giovani, proprio sacerdoti, Don Matteo, Don Fabricio, ad esempio, e soprattutto anche Suor Daniela con tutte le sorelle del Piccolo Testamento che proprio lei ha protetto sotto la sua ala. Grande vita e grandi nuovi impulsi all'oratorio, davvero? È una forza vitale e giovane che arriva proprio dalla Chiesa? Sì, dico, la cosa più bella, a me pare, di Gubbio nel mio servizio pastorale è il sorgere e il riconoscimento delle sorelle del Piccolo Testamento che fanno dieci anni quest'anno e io riapprovo lo statuto leggermente modificato perché, diciamo, finora sono partite dal zero e siamo a dieci anni e in questo tratto di strada ci sono state delle cose che si sono aggiustate e quindi le riconosco le riconosco come associazione pubblica e quindi un passo avanti nella loro crescita. Sì, devo dire che le ho portate dal Santo Padre e dal Papa nel mese di ottobre è stata un'esperienza bellissima e così ho coronato le mie promesse perché avevo anche io desiderio di portarle dal Santo Padre sono riuscito a portarcele è stato un momento bello per tutti per me, per loro e anche credo per il Papa era molto contento molto lieto di conoscerle gli abbiamo consegnato anche la chiave della misericordia insomma è stato veramente il coronamento di un cammino che abbiamo fatto in questi dieci anni e questa è una delle realtà più belle che lascio alla diocesi di Gubbio spero che cresca e poi tante cose Don Francesco, non scordiamoci Don Francesco, certo i diaconi i seminaristi che abbiamo in seminario Mirko, Mirchetto come lo chiamano Andrea Edoardo e poi il diacono Giorgio insomma un bel lavoro allora le chiedo come ultima cosa che consiglio si sente di lasciare agli ogubini che esortazione non soltanto come capo della chiesa ma davvero come cioè parlando sul piano un pochino più laico ai cittadini alle persone Gubbio in realtà è una città che ha tante attività solidali ma molte volte c'è però anche tanta solitudine umana o no? Sì, Gubbio è una città come tutte le città del mondo originalissima perché ha questa caratteristica di non essere né troppo grande né troppo piccola però autosufficiente gli ogubini ci tengono a questa loro autosufficienza e quindi è una città anche orgogliosa delle proprie radici è antica alle proprie tradizioni insomma che devo dire la cosa che mi preme di più è che conservino la fede perché vedi questa è una risorsa che fa la differenza tra un popolo di cittadini dove di cittadini che vivono nella fede e quelli che non vivono nella fede i popoli pagani i popoli anche che vivono prigionieri del proprio egoismo della propria sufficienza io credo che la fede è un grande aiuto per costruire una società più solidale che si voglia più bene perché la fede ti apre agli altri ai fratelli la fede ti aiuta a vedere in chi ti sta davanti non un uomo che ti costringe a confrontarti e a combattere con lui ma ti pone davanti a un fratello come te figlio di Dio fratello tuo erede del regno discepoli di Gesù capisci la fede ci apre a questa visione della società e del mondo in maniera nuova originale bellissima e quindi ecco io auguro di conservare la fede dono prezioso di aiutare e sostenere il cammino delle famiglie delle giovani famiglie degli sposi perché la famiglia è la cellula fondamentale della società e senza la famiglia la società si spaccia sotto gli occhi di tutti e allora sostenere la famiglia tutte le istituzioni la chiesa il comune le associazioni sosteniamo la famiglia cioè aiutiamola a vivere tanto in maniera dignitosa economicamente che abbiano la possibilità di un lavoro non dico sicurissimo ma un lavoro che gli consenta che consenta alla famiglia di programmare anche la nascita dei figli dell'educazione dei figli e il futuro nostro sono i figli e poi che devo dire accogliete il successore il mio successore che verrà non so quando proprio non lo so quindi potrei dire a Pasqua per Santo Ubaldo il prossimo anno non lo so perché non lo so e credo che non lo sa nessuno perché non dipende da me dipende dalla congregazione dei vescovi che lavora per il Papa dall'annunziatura quindi c'è tutta una serie di contatti per cui non lo so proprio però arriverà ecco io almeno questa 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 certezza ce l'ho che arriverà il mio successore e gli consegnerò come segno della transizione il pastorale come fece Bottaccioli con me e poi gli augurò gli augurerò di camminare con questo popolo e di aiutarlo a camminare sulle vie del regno e poi agli agubini che gli dico che devono volersi più bene che devono avere pazienza nel sopportarsi a vicenda perché è una città bella ricca c'è un patrimonio artistico un patrimonio culturale però magari si dividono poi su delle piccole cose che ogni a me fa impressione che c'è qualcosa che propone che viene proposto da una parte e subito c'è la parte avversa che dice rovescio cioè non si sa vedere nelle proposte il positivo che c'è perché se uno propone una cosa ci sarà qualcosa di positivo non è che uno si diverte a dire le stupidaggini e quindi non si fa lo sforzo di capire che cosa c'è di buono in quella proposta ma si combatte e basta perché è di un altro non è la mia insomma più solidarietà ecco più solidarietà più coraggio nel difendere la città nei suoi i suoi valori nel proporre i valori di questa città la cultura in modo particolare le opere d'arte che sono stupende le tradizioni le feste insomma dubbio ce n'ha ce n'ha tanti allora e auguro così di portare avanti questo patrimonio e di saperlo offrire proprio per condividerlo con gli altri buon Natale eccellenza grazie buon Natale a te ai tuoi buon Natale alla città buon Natale alla nostra diocesi buon Natale alla chiesa tutta e buon Natale anche a Papa Francesco che il Signore lo sostenga nel guidare la chiesa universale sulle vie del Regno buon Natale ma mi piace più dire Santo Natale e sarà Santo se ci sarà questa questa accoglienza del Dio con noi di Dio che viene ad abitare con noi un'accoglienza che esige un cuore aperto un'accoglienza che diventa concreta nei segni sacramentali la penitella il sacramento della confessione dell'Eucarestia che diventa ancora più concreta nell'accoglienza dei poveri ecco Gesù accolto nel povero che ha bisogno di aiuto è lì che lui è presente quello che avrete fatto al più piccolo l'avete fatto a me e questa la religione nostra è molto concreta se non è se non diventa concreta rimane una ideologia che serve a poco la pasticceria no? come ha detto Papa Francesco della domenica la pasticceria della domenica bene buon Natale Santo Natale a tutti voi a tutti voi